Ciao a tutti, sono Monica Casalino, vengo da Monfalcone, sono parricchiera. Oggi c'è stato il mio casting, non so seguirsi di emozioni fortissime, ma sono molto soddisfatta perché sono riuscita a realizzare su una modella che avevo in mente di fare quello che proprio volevo e devo dire che ai giudici è piaciuto molto e questo è stato ancora più soddisfacente per me. L'esperienza della crociera mi porterò sicuramente dietro a un pacchetto di un sacco di cose nuove, un arricchimento sia a livello personale che poi anche su quello che fa parte del mio lavoro, quindi sono veramente felice.